Allora, ma Samazic è andato al Napoli? Eh? Samazic? No, questione chiusa perché il papà ha rotto i coglioni. Allora io vorrei fare questo video messaggio a questo ragazzo, a questo campioncino. Ascoltami Stellina, ascoltami, senti al nonno, senti a un pezzo di me, senti, trovati un procuratore, vai via da tuo padre, abbandona la famiglia, trovati una cazzo di casa, lascia stare papà perché con papà non vai da nessuna parte, figlio mio. Senti a me, trovati un cazzo di procuratore, lascia stare papà perché papà anche con Napoli, irritato il Napoli, questi qui, questi sono assurdi. Quindi, figlio mio, lascia stare il babbo, mollalo, via, trovati un procuratore, un procuratore donna perché è più bello. Quindi, lascia stare papà, lascialo stare, che papà combina solo guai. Non lo so tuo papà da quale caverna viene, ma hai capito Stellina? Dai, fai così, Samansi, e non buttarti giù. Cambia procuratore.